Leggo con stupore alcune dichiarazioni del delegato allo sport Stefano Frasca che riferisce come di recente il comune abbia inviato due progetti al CONI per l'inerbamento delle maie del campo di Scoglitti. Se così fosse la ritengo una clamorosa contraddizione politica e amministrativa. Così l'ex delegato Fabio Prelati che parla di un comune invece che durante la sindacatura Nicosia aveva ricevuto un finanziamento dalla regione proprio all'inerbamento del campo Andolina di Scoglitti oltre alla partecipazione al bando nazionale e mille cantiere per lo sport ricevendo un finanziamento di 680 mila euro. Riguardo invece al Campemaia continua Prelati in considerazione dell'avvenuto finanziamento regionale si era dato mandato al sindaco Nicosia di inoltrare una domanda di contributo in conto interesse a valere sui mutui agevolati per realizzare l'impianto sportivo e così si approvava anche il progetto esecutivo. Occorre anche ricordare dice Prelati che lo scorso settembre sono stati stralciati dal piano triennale delle opere pubbliche e proprio i due progetti di inerbamento degli impianti non ritenendoli importanti per la città. Il delegato Frasca, conclude Prelati, forse fa riferimento al progetto del centro di aggregazione sportiva che sarà adiacente alle MAI e che non prevede tuttavia l'inerbamento della struttura.